Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it. In questa serie di video lezioni, in questa parte del corso di montaggio video con Adobe Premiere, stiamo vedendo alcune funzioni utili da conoscere per lavorare al meglio in Adobe Premiere. In altre parole stiamo andando un pochettino più nel dettaglio, stiamo approfondendo un pochettino di più il funzionamento della timeline di Premiere e stiamo vedendo e stiamo esplorando alcune funzioni che ci permettono un po' di velocizzare il nostro lavoro e anche di semplificarci la vita perché alla fine lo scopo di chi deve lavorare un video è quello di farlo bene nella maniera più precisa e professionale possibile, ovviamente risparmiando tempo e il tempo oggigiorno è veramente una cosa, una risorsa importante. Vi ricordo però prima di continuare con la lezione di oggi di venire a visitare il mio sito internet www.fabioambrosi.it, sito dove troverete l'elenco di tutti i video tutorial, di tutte le lezioni di questo corso introduttivo all'Adobe Premiere 2019, sito dove troverete anche nei prossimi mesi sempre di più lezioni riguardanti anche altri software Adobe. E' mia intenzione visto che molti me lo richiedono dedicare anche un po' di tempo a Photoshop, ad After Effects ed ad Adobe Audition per gestire l'audio. Chiaramente prima cerchiamo di chiudere questo corso lunghissimo su Premiere per poi concentrarci anche su altri software. Se vi fa piacere, se non volete perdere i prossimi tutorial, chiaramente iscrivetevi a questo canale YouTube così che possiate sempre essere informati sulle release dei prossimi video tutorial. Dunque, di cosa parleremo quest'oggi? Quest'oggi vedremo come fermare il tempo. Nella scorsa lezione vi avevo detto, nel prossimo tutorial vedremo come fermare il tempo. Cosa vuol dire? Detto semplicemente vedremo come creare, come fare un freeze frame, ovvero come fermare, bloccare un video. Immaginate di avere la volontà di fare una clip video dove c'è questo simpatico gabbiano di Roma che passeggia e ad un tratto, bam, fermarlo perché magari avete intenzione, non so, di fare una transizione, di creare un effetto, di fare qualcosa, di zoomare per vedere qualche dettaglio di questo uccello, non lo so. Per qualunque ragione voi abbiate la necessità di fermare il tempo, quest'oggi vedremo come fare. In realtà è un procedimento veramente molto semplice, nella sua versione base. È un procedimento un pochettino più complesso se vogliamo farlo in maniera un pochettino più articolata. Oggi parleremo di entrambe queste casistiche, quindi mettetevi seduti con calma, tranquilli e iniziamo immediatamente. Dunque, innanzitutto, se vogliamo fermare il tempo, vi informo che questa funzione è disponibile in Premiere in due modi. O cliccando sulla clip che volete frizzare e scegliere la voce opzioni di fermo fotogramma, oppure, come al solito Premiere ci dà la possibilità di fare un'azione in diversi modi, oppure c'è la possibilità di andare alla voce clip, opzioni video, opzioni di fermo fotogramma. Ecco, la strada è diversa, ma il risultato è esattamente lo stesso. Prima però di cliccare su questa opzione, su questa voce del menu di Adobe Premiere, decidiamo cosa vogliamo fare. Dunque, noi vogliamo fare in modo che questo nostro gabbiano inizi a passeggiare, quindi magari questa parte iniziale del video possiamo toglierla, ok? Facciamo partire il nostro gabbiano, non piccione, gabbiano, da questa posizione, andiamo in Play, decidiamo a un certo punto di fermare l'immagine, quindi ci interessa, ecco, ci interessa la clip fino a questo punto. Tutto il resto possiamo cancellarlo, quindi tasto C per attivare il taglierino, tagliamo la clip, tasto V per tornare alla selezione, selezioniamo la clip, cance e via. Ok? Ci concentriamo solo su questa clip. Chiaramente, se io adesso andassi a scegliere la voce opzioni di fermo fotogramma, sarebbe sbagliato, perché io non voglio bloccare tutto la clip video, ma voglio bloccare, per esempio, solo l'ultimo fotogramma, ok? Quindi voglio che il video vada in Play regolarmente per poi fermarsi all'ultimo fotogramma. Quindi, la prima cosa che vado a fare è isolare, in questo caso, l'ultimo fotogramma, ma se io volessi partire da un fotogramma bloccato e poi metterlo in Play, chiaramente andrei ad isolare il primo fotogramma. Isoliamo l'ultimo fotogramma, quindi tasto C per tagliare, clicchiamo, tasto V per tornare alla modalità selezione, e quello che faremo sarà frizzare, bloccare questo frame. Oh, attenzione in Premiere, in Premiere il frame selezionato è quello che ha questa linea blu sopra, per intenderci. Vedete questa barretta orizzontale? Ecco, questa barretta ci indica che noi stiamo in questo momento considerando questo fotogramma, non il fotogramma prima, ma il fotogramma dove c'è la selezione della barretta orizzontale. Questo è un concetto molto importante da apprendere e lo vedremo quando andremo ad esportare, perché può essere fonte di confusione. Quindi, dicevo, torniamo al nostro fotogramma. Questo è il fotogramma che noi vogliamo frizzare. Chiaramente se adesso lo andassi a riallungare, io non frizzerei assolutamente niente, ma chiaramente continuerai la riproduzione regolare del video. Quindi voglio fermare questo fotogramma. Tasto destro del mouse, oppure potete scegliere clip, opzioni video e opzioni di fermo fotogramma. Clicchiamo sulla voce opzioni di fermo fotogramma e ci viene proposta questa finestra. È una finestra semplicissima e contiene poche opzioni. Tra queste opzioni abbiamo la possibilità chiaramente di attivare la funzione del blocco fotogramma attivando questa casella ferma su e questa tendina che ci permette di dire a Premiere quale fotogramma bloccare, perché noi potremmo basarci per bloccare il nostro video sul codice di tempo del video sorgente, sul codice di tempo della sequenza, sull'attacco, sullo stacco oppure sulla posizione della testina di riproduzione. Cosa vuol dire codice di tempo sorgente e codice di tempo sequenza? Non sono la stessa cosa? Beh, noi diamo per scontato che la timeline, così come il codice di tempo della sorgente, partano da zero. In realtà, se voi utilizzate delle videocamere un pochettino più complesse, voi come timecode potete impostare anche un orario, non so, 14, 00 e 15 frame, ad esempio. Quindi, quando voi andate ad indicare a Premiere quale fotogramma bloccare, voi potreste dire anche, prendere come riferimento il codice di tempo direttamente del video sorgente. Qui sotto potete specificarlo a mano. Normalmente viene, diciamo, indicato, viene selezionato il codice di tempo in cui vi trovate in quel momento, nella timeline. Premiere è intelligente, automaticamente comprende qual è il codice di tempo da utilizzare, ma magari potete cambiarlo e sceglierne uno personalizzato. Clicchiamo su OK e, come vedete, Premiere ha bloccato l'animazione esattamente nel codice di tempo, in questo caso il codice di tempo sorgente che noi abbiamo indicato. Perché utilizzare anche la possibilità di dare un attacco, uno stacco alla posizione della testina? Perché ipotizziamo che noi non utilizziamo un singolo frame come abbiamo fatto in questo caso isolandolo, ma ci troviamo in una situazione tipo questa, dove abbiamo una clip intera, vedete in movimento, e noi decidiamo invece di bloccarne un singolo fotogramma. Ecco, se noi andassimo nella finestrina di prima e impostassimo come metodo, come, sì, come metodo di selezione del fotogramma l'attacco e cliccassimo su OK, vedete che Premiere va a prendere il primo fotogramma di questo blocchettino multimediale, ok? Stessa cosa per lo stacco, vedete lo stacco e questo è il fotogramma dello stacco. Se io andassi adesso nella stessa finestrina di prima e gli indicassi lo stacco come metodo di selezione del fotogramma da bloccare, Premiere prenderebbe lo stacco, ok? In questo caso viene sempre preso il punto di stacco, anche se io modifico chiaramente il punto di stacco, Premiere automaticamente prende il punto di stacco come riferimento per bloccare tutto l'oggettino multimediale. Stessa cosa per quanto riguarda, vediamo se riesco a tornare indietro, ok? Stessa cosa per quanto riguarda la posizione della testina di riproduzione. Ipotesiamo di mettere la testina di riproduzione qui, clicco opzione di fermo fotogramma e scelgo testina di riproduzione, ok? Da questo momento in poi verrà preso come riferimento la posizione della testina di riproduzione. Queste le varie opzioni ed è molto semplice, no? Se noi avessimo l'esigenza di bloccare al volo un pezzettino di clip video. Ma ipotizziamo di voler far camminare questo gabbiano, farlo rallentare e poi bloccarlo, farlo stare fermo qualche istante e poi farlo ripartire. Eh, come fare? Dovremmo probabilmente impazzire con la velocità, con il freeze frame? Ok, c'è un metodo più semplice che è utilizzare lo strumento che si chiama modifica tempo velocità. Allora innanzitutto facciamo un po' di spazio sulla timeline e ingrandiamo la nostra traccia video. Ho tirato su, ecco vedete che se mi posiziono tra le due tracce c'è una sorta di freccettina a due punti che viene mostrata, clicco e posso allargare la traccia video. Clicco sopra a questa icona dove è scritto FX, ve lo ingrandisco, ecco qui vedete scritto FX, vado a cliccare con il tasto destro del mouse e scelgo modifica tempo velocità. Vedete che cambia tutto all'interno della clip video e viene mostrata una barra orizzontale. Qui andremo ad impostare due keyframe per indicare il punto in cui vogliamo iniziare a fermare la clip video e il punto in cui vogliamo sbloccare nuovamente la clip video. Tengo premuto il tasto CTRL sulla tastiera e clicco in un punto qualsiasi. Vedete viene creato un primo fotogramma chiave. Ok, ingrandisco un pochettino perché tra breve voglio mostrarvi una cosa importante. Vediamo se ci riesco. Ok, perfetto. Adesso vado avanti, anzi no, tengo premuto i tasti CTRL e ALT contemporaneamente. Vedete? Tengo premuto i tasti CTRL e ALT, clicco su questo keyframe e lo trascino verso destra. CTRL, ALT e trascino questo fotogramma chiave e viene sostanzialmente modificata la curva. Cosa succede in questo caso? Succede che Premiere mette in play il video, lo blocca in questo blocchettino e poi lo rimette in play quando tutto torna alla normalità. Vedete? Play, stop, play. Noi però possiamo anche fare una transizione tra questo stato di movimento e questo stato di quiete. Come? Bene, se voi ingrandite e guardate bene, questo keyframe ha due porzioni, ha due maniglie. Se io clicco sulla maniglia di sinistra, per esempio, col tasto sinistro del mouse e trascino, vedete che la curva diventa morbida, si ammorbidisce. Stessa cosa, ecco, se sposto quello di destra, la sposto proprio tutta fisicamente. Ecco, clicco su quello di sinistra e cosa succede in questo caso? Succede che il video partirà alla velocità normale, piano piano rallenterà fino a fermarsi e poi di punto in bianco ripartirà. Proviamo? Ecco, si rallenta, si blocca e riparte subito. Stessa cosa possiamo farla da questo lato, quindi clicchiamo, trasciniamo e quindi quello che succede è questo. Il video va alla velocità normale, rallenta, si ferma e riparte. Molto comodo, molto comodo. Possiamo modificare anche, diciamo, quella che viene chiamata forma della curva. Vedete che qui al centro, se non lo vedete, dovete cliccare su questa barra grigia. Ecco, qui vedete? C'è una sorta di maniglia che, se modificata, ci permette di modificare l'inclinazione, vedete, della nostra curva, in maniera tale da rendere magari la transizione tra lo stato di quiete e lo stato di movimento un pochettino più morbido. Questa è una tecnica un pochettino più avanzata. Giocateci, prendeteci confidenza. Chiaramente, ripeto, è normale che vada a scatti ad un tratto perché il numero di fotogrammi è sempre 25 e Premiere per rallentare va a duplicare i frame, no? Dovete girare chiaramente ad una velocità molto più elevata per avere un effetto molto più morbido. Però questo strumento può esservi utile, spero lo sia, nel caso abbiate l'esigenza appunto di far partire un video, farlo rallentare, fermarlo e poi rimetterlo in movimento. Quindi abbiamo visto in questa lezione come fare un freeze frame, come rallentare il tempo, come bloccarlo e come rimetterlo alla velocità normale. Vi ricordo www.fabioambrosi.it è il sito internet dove troverete l'articolo di questa lezione per rileggere quello che ho appena detto in questi minuti. C'è anche l'elenco di tutti i tutorial fatti fino ad ora. Tutte le lezioni del corso di Adobe Premiere sono lì, i link e gli articoli. Se vi siete persi qualche lezione potete tranquillamente recuperarla sul sito internet. Oppure, se vi fa piacere, iscrivetevi anche a questo canale YouTube così da essere sempre avvisati quando usciranno nuovi tutorial. Come detto, in futuro, ho intenzione di toccare anche altri software e andare chiaramente avanti per quanto possibile. Per il momento, grazie mille, buon proseguimento, mettete un like, condividete. Grazie mille, ciao!